Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nel lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Questa la sintesi della seduta d'aula di martedì 23 febbraio 2021. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la mozione della Lega che chiede alla Giunta regionale di attivarsi presso il Governo per avere a disposizione, per un utilizzo immediato, anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid-19. Ha approvata all'unanimità anche la mozione dei consiglieri della Lega Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi, in tema di medicina a distanza, con cui si impegna la Giunta a sollecitare il Governo affinché avvii un percorso atto a favorirne l'utilizzo anche per gestire le emergenze su tutto il territorio nazionale, al fine di munire le unità operative di pronto soccorso degli ospedali Umbri di personale adeguato e preparato al supporto da remoto. Approvata con sette voti favorevoli dei consiglieri della minoranza, cui si è aggiunto quello del Presidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Squarta, Gruppo Fratelli d'Italia, e le sette astensioni dei consiglieri della Lega, la mozione è promossa da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, e dal Consigliere Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto per intervenire in ambito di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Nera, in coordinamento con i sindaci della Valnerina. L'Assemblea Legislativa ha respinto con sette voti favorevoli della minoranza e dodici astensioni della maggioranza la mozione promossa da Donatella Porsi, del Partito Democratico, che mirava ad impegnare la Giunta ad intervenire sul Governo affinché il raddoppio della tratta ferroviaria Roma-Ancona possa essere effettuato sull'attuale tracciato. L'assessore Enrico Melasecche, che ha invitato la maggioranza all'astensione, ha detto di condividere molti punti della mozione, ma imporre di fatto una scelta prima della consegna di un apposito studio in atto è inopportuno, perché si andrebbe a chiudere richieste che arrivano da altri territori della Regione. La Regione ha effettuato una richiesta nei confronti dell'amministratore delegato di RFI Vera Fiorani, ha detto Melasecche, per approfondire il raddoppio da Foligno a Terontola, quindi della tratta che collega gran parte dell'Umbria alla rete nazionale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la mozione promossa dai consiglieri della Lega a Peppucci, Rondini, Mancini, Carissimi, Nicchi e dal gruppo di Fratelli d'Italia, Pace e Squarta, che impegna la Giunta regionale ad intervenire per la realizzazione di una struttura REMS, Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza nella Regione Umbria, per la cura e la tutela della salute delle persone detenute affette da problematiche di natura psichiatrica e agevolare il personale che vi opera a diretto contatto, peraltro senza una specifica formazione. Approvato all'unanimità il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, bilancio in equilibrio per il 2021 e per l'intero triennio. Approvate anche modifiche al regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Daniele Carissimi, della Lega, Presidente della Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari, ha detto che si tratta di una riforma sostanziale del regolamento interno come mai prima accaduto, per dotare l'Assemblea legislativa di uno strumento rinnovato e in grado di assicurare speditezza ed efficienza all'ente. Nel corso della seduta sono state discusse cinque interrogazioni a risposta immediata, presentate dai consiglieri regionali, per ottenere chiarimenti dagli assessori. Simona Meloni, del Partito Democratico, ha chiesto alla Giunta lo stanziamento di maggiori fondi per includere anche i commercianti dei piccoli borghi e delle periferie nella misura di ristoro una tantum autonomi, 1.500 euro alle attività, che sono state temporaneamente sospese o ridotte a seguito di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze per contrastare l'emergenza Covid. L'assessore Fioroni ha detto che è pronta una misura per tutto il commercio. Il bando ReCommerce porta 10 milioni di euro dalla riprogrammazione dei fondi europei. Abbiamo cercato di dare risposte agli operatori delle fiere, ha detto Fioroni, dello spettacolo, estetiste e tolettatori di animali. La misura, una tantum, verrà chiusa il 5 marzo, per andare in erogazione subito, salvo poi riaprire l'avviso, ampliando la platea dei beneficiari. Donatella Porzi, del Partito Democratico, ha chiesto alla Giunta interventi straordinari, circa alcune situazioni riscontrate nell'ospedale di Foligno, come il sovraffollamento dei degenti, gravi carenze di organico infermieristico, l'individuazione di aree grigie, per sospetti positivi al Covid in reparti non idonei. L'assessore Coletto ha risposto che il sovraffollamento è legato ai ricoveri della terza ondata, numerosi a causa dell'aumento dell'infettività e che nel 2021 sono previste 1.500 assunzioni per soddisfare le necessità. Michele Bettarelli, del Partito Democratico, ha interrogato l'assessore Luca Coletto per sapere quali siano gli indirizzi dati all'azienda USL Umbria 1 per impegnare le risorse derivanti dall'ascito Mariani nell'aumento dei servizi sanitari territoriali e la coerenza con le volontà delle attestatrice, signora Clara Mariani, chiarendo se quei fondi serviranno per il recupero dell'ex ospedale e per la futura Casa della Salute. L'assessore ha risposto che una commissione paritetica tra Comune, Città di Castello e ASL farà proposte alla Giunta per l'utilizzo dei fondi che dovranno essere messe a confronto con il nuovo piano sanitario, in cui ci saranno previsioni rispetto alle nuove case della salute. I consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli della Lega hanno interrogato la Presidente Tesei sui programmi di rafforzamento e rilancio della Società di Gestione dell'Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi, la SASE, anche di chiarire se tra i progetti del recovery plan c'è un collegamento veloce ferroviario tra l'aeroporto e le stazioni di Perugia e Foligno, in considerazione della trasformazione della orte Foligno-Falconara in linea ad alta velocità, consentendo un rapido collegamento dell'aeroporto di Perugia con le direttive verso le principali città italiane. La Presidente Tesei ha risposto che ci sarà un nuovo piano delle rotte per arrivare a 500.000 passeggeri annui, sia rotte nazionali come Brindisi, Olbia, Catania, la Mezzia Terme, poi internazionali come Londra, Bruxelles, Rotterdam, Vienna, Barcellona e Bucharest. Un progetto in sinergia con l'alta velocità dei treni, anche nell'ottica del nuovo quadro relativo ai trasporti e delle risorse del recovery plan. Occorre, ha concluso la Presidente Tesei, sanare le perdite del bilancio 2020. Ripartiremo appena finita la pandemia. Nell'ultima interrogazione, il consigliere Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, ha chiesto di attivare una misura di intervento straordinario in favore dei comuni per la copertura di parte delle spese sostenute a tutela e protezione dei minori collocati temporaneamente in strutture di accoglienza residenziale e anche socioeducative. L'assessore Coletto ha risposto che, fermarestando la volontà di limitare al massimo gli affidamenti, la Regione sta seguendo la possibilità di costituire un fondo specifico per aiutare i comuni a cui attingere a determinate condizioni e per certi casi. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria.